Cristian Acquarenghi, capitano della Feralpi Salò. Innanzitutto, Cristian, auguri per il tuo compleanno, 31 anni proprio oggi. Aurresti preferito sicuramente festeggiarlo con un gol? Sì, festeggiarlo con i tre punti, più che anche con un gol. Però penso che abbiamo fatto una discreta prestazione, abbiamo anche creato qualche occasione da gol importante. È stato bravo il portiere avversario anche in alcune circostanze, quindi penso che comunque prendiamo il punto con serenità, continuiamo la striscia positiva, continuiamo a non subire gol, quindi penso che sia comunque una giornata positiva anche se non sono arrivati i tre punti. Quanto pesa l'assenza di Rossetti in attacco? È ovvio che Rossetti è un giocatore importantissimo, non devo essere io a dirlo perché lo vedete comunque anche voi che è un giocatore fisico, è un giocatore che tiene la palla, però penso che sia riduttivo dire che mancava Rossetti anche perché comunque secondo me c'è stato anche oggi Graziani che ha fatto un lavoro incredibile proprio per la squadra, c'è stato Zanola comunque che ha aiutato molto anche l'attacco, lo stesso Bracaletti che è probabilmente il giocatore più importante che abbiamo in squadra. Quindi penso che è vero, Rossetti è stato l'anno scorso un giocatore fondamentale, però adesso non dobbiamo la prima volta che non si fanno tre punti dire che mancava Rossetti perché sennò diventa riduttivo anche per rispetto comunque dei compagni. Come cambia comunque il gioco della Feral Pessolo in attacco senza Rossetti? Sicuramente Rossetti è una prima punta, adesso ci sono davanti comunque tre punte veloci. Sì, tre punte veloci però ripeto, secondo me Graziani questo ruolo lo può fare comunque, l'ha fatto e ha fatto molto bene. Dopo io non sono un allenatore, a me mi mettono in campo per giocare, quindi non sta a me decidere o pensare come meglio giocare. So solo che comunque oggi vedo il bicchiere mezzo pieno perché comunque pur avendo fatto uno 0-0 in casa abbiamo creato anche delle buone occasioni da gol. Dopo è chiaro che in una stagione non si può sempre vincere però ripeto, prendiamo un punto con serenità, continuiamo la striscia positiva e siamo fiduciosi per il futuro. Come detto tu di positivo comunque l'imbattibilità in difesa ma soprattutto sembra che la Feral Pessolo abbia veramente dei buoni ricambi nel reparto retrato, assente colicchio per la squalifica e Bonaccorsi ha fatto sicuramente una buona partita senza far impiangere il titolare. Sì, rispetto alla domenica precedente c'erano tre giocatori nuovi, c'era anche Muvane, Zanola oltre a Bonaccorsi però se vogliamo essere una squadra importante è chiaro che dobbiamo avere anche dei giocatori importanti anche in panchina, fra virgolette. Ad agosto ci reputiamo tutti 20 titolari e poi è riduttivo dire che se mancano quegli 11 dopo il salò non esiste più insomma. Anzi, oggi abbiamo dimostrato comunque che siamo un grande gruppo e che comunque siamo tutti pronti per fare bene.